Mister, è arrivato un pareggio contro il Livorno dopo una settimana piuttosto orcambulesca anche per quanto riguarda il livello societario, è esonerato lunedì, è richiamato poi martedì un punteggio positivo per quello che si è visto? Veniamo via con qualcosa da Arezzo, quindi c'è del positivo sicuramente la partita ci si era messa bene e sicuramente c'è un po' di scontentezza perché i ragazzi ci tenevano a quel punto e volevamo venire via col bottino pieno di fronte avevamo una squadra che sicuramente ne parlano tutti e c'è un motivo però mi tengo stretto il pareggio, per noi è un punto di partenza Per quanto riguarda invece anche la sua posizione, si è letto che i giocatori hanno preso una posizione forte insomma anche nei suoi confronti, come proseguirà il vostro rapporto da qui alle prossime settimane? Con chi? Con la società Ma come prima, sinceramente sì, abbiamo letto come è andata ma per quanto mi riguarda anche con la società in settimana non è cambiato niente e sono vicini a me come li sentivo prima poi le scelte si prendono per una serie di motivi, ci eravamo parlati col Presidente e niente, io sono stato contento di ritornare dopo pochissimo in sella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti